Siamo Ivan e Marianna, ecco un artista della moda, un artista della musica, è un omaggio qua alla nostra Madonna, che significata per voi? E' una fede pochissima, quella per tutti i positanisti, no Michele? Anche nel mondo, anche nel mondo, a New York dappertutto, esatto, stiamo incontrando un sacco di positanisti che sono emigrati, sono tornati per la festa, sono arrivati qui apposta per questo, esatto, esatto, che dici tu? E poi è un amore anche per la comunità, per stare insieme, per trovarci un po' tra tutti quanti noi positanesi, non è tanto semplice. Ci sono dei canti molto belli, Marianna, dove fai musica? Madonna mia, c'è qualcosa di... ecco, Marianna che si occupa di musica, ti emoziona, nonostante fai tanta musica, sentire questa... Si, emoziona i canti e soprattutto che li si fanno insieme. Che li si fanno insieme, una grande comunità. Sì, come mette? Un nome. Qua è una grande storia. Come mette? Guardate, qua... Sì, guardate 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 qua... Grazie. Grazie. Grazie.